Bene, vedo che hai fatto ulteriori progressi nell'ultima missione. Già, sto affinando nuove tecniche di griffing, come hai visto. E questo non può che farmi piacere. Ma veniamo a noi! Le due missioni precedenti sono servite per testare la tua nuova realtà e di nuovo le tue abilità. Ora veniamo a noi al vero lavoro. Dovrai tornare sui tuoi passi, su un server che in passato hai griffato sì, ma ci sei andato fin troppo caudo. Dovrai tornare lì dentro, sfruttare un portale mistico per accedere al server che sembra inviolabile. E in quel modo potrei ripeterti, questa volta però non dovrai avere pietà alcuna. Un server inviolabile che ho già visto. Non so di cosa tu stia parlando, ma sono pronto ad adiempire a questa nuova missione. Entra nel portale del Nether. Un mondo citato per Eren. È un controsenso sta cosa. Ok. Dove... Che razza di spawn è? Cosa vuol dire qua sopra? È tipo il tramonto, ma sembrerebbe fermo il tempo. Wow! Ma che... Che figo! Oh mio Dio! Ma che si sta caricandoli! Ha citato... È una mappa citata! Non puoi... Non puoi aver buildato una roba di questo calibro, cioè... Capiamoci, è fighissima sta roba. Un cancello tori. Mi fa venire in mente una costruzione che vorrei fare nella mia serie, tra l'altro. Daglie che ho una fame da lupi! Ce l'avrà del cibo questo? Mi serve del cibo, cazzarola. La lava. Ma perché mi regali la lava così gratis? Vabbè, se proprio vuoi, toh. Ci sono un botto di chest con delle armature. Magari fanno comodo. Eeeh! Eh eh! Beh, 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 niente male. Entrate nel nether. C'è la cruce di Herobrine. Ci sono i blocchi del land nel nether. Non capisco, la porta è aperta. E... Ah, ho capito. Una scalinata che mi porta verso l'alto. Tra l'altro avevo fame. Mi sono mangiato così di ignoranza. La mela up. Cioè, mi vuoi dire che ha perforato la bedrock costui? Ha spaccato la bedrock, sì. Oh, vabbè, che ignor... Eeeh, vabbè, la TNT. Tutta l'ignoranza del mondo, capito? E non c'è l'arco! Cioè, ha messo tutte le frecce, ma non c'è l'arco. Ma perché? Vabbè. Qui? Che cazzo è sta roba? Minchia, quanto è inquietante. Quanto è silenzioso il tetto del nether. Ma non capisco il senso. Oh! Che sta succedendo? Ehi! Perché gira tutto? Ma che è? Wow, 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 wow. Frena, frena. E che cazzarola è successo qua? Ma che... Ehi, ai, ai! Oh! Ma che cazzo? Questa croce dà effetti allucinogeni, ma è cambiato tutto. È comparsa una statua di Herobrine. Ahia! Perché c'è una statua di Herobrine qui? Non... Che senso ha? E questa è... Sono nel posto di prima? Sì, questa è la croce. Strana forte sta cosa, ma... Vabbè, torniamo indietro. Suppongo che... Si prende del cibo almeno un acciarino, così facciamo qualcosa. C'era una... Caspita di casa! Stile End qui. C'è una chest con dei materiali a caso. Ma mi sono... Possibile che mi sono perso totalmente? C'era una casa... Ne sono sicuro. C'è qualcosa qui, aspetta. Che cazzo sta succedendo, ragazzi? Ma... 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 Ma che posto è? C'è della carne marcia, c'è altra lava. Va bene, questa ci può far comodo. Torniamo nel mondo reale, ma... E' cambiato tutto, non ha senso tutto ciò. Ehm... Parrebbe che il portale... E' un altro portale, mi ha portato in un'altra casa. E... Ok. Ma aspetta, ma... Questa casa... Ma che cazzo... E' il mondo di Marci! E' il mondo di Marci! Ecco di cosa parlava il Red the Creeper. Il potere del portale di Erobran mi ha voluto portare nel mondo di Marci. Mi ha detto questa volta di non fallire, di fare una griffata vera... E' proprio, ma... Non avevo inteso che intendeva questo. Devo distruggere davvero il mondo di Marci? Oddio, aspetta, torniamo in casa. E' notte e ci sono degli zombie. E' molto pericoloso qui. Tra l'altro Marci è un... Ma è Marci online? Ma che cazzo... Ma dai! Questo potrebbe essere un problema per fare la mia griffata. Red the Creeper e portali a parte. C'è Marci nel server. Questo è un grosso problema. Perché volevo farla senza di lui, essenzialmente. Vediamo se... Marci. Vabbè, io nel mentre... Prenderei della carne. Ma che... Com'è? Ha cambiato tutto qui. Come funziona? Non mi risponde. Ci sei? Ci sei, Marci? Eh? Non risponde. Cos'è sta cosa? Un regalo per te by Tearless Raptor. Ma che cazzo... Vabbè, ok. Non mi... Mi faccio... Uh, un acciarino. Ottimo. Ottimissimo. Ragazzi, mi sa che Marci è dentro ma FK. Guardate qui, protezione 3. Oh, ok. Ci sono delle cose serie. Direi che... Qua non c'è dentro niente. Però questa la spacchiamo e vediamo. A protezione 4. Beh, meglio che niente ce la mettiamo, direi. Pantaloni mending. Però protezione 4 questi. Ottimo. Ce li pigliamo. Questi li metti qui. Questi via. Tengo giusto questa. Marci non mi ha cagato. È FK, raga. Quindi ci... Ci gira anche bene la cosa. Mending, protezione 4. Vai, ci sta. Abbiamo anche... Delle spade abbastanza interessanti. Vai con Sharpness 3. E vabbè. Eeeh. Fortuna e tutto quanto. Che figo. Una pala. Va bene. Top. Grazie, Marci. Ma mi sento proprio viziato. Qui c'è un arco normalissimo. E altre frecce. Barda... Madonna. Anche lui con ste cazzo di bardature. Doviamo subito dar fuoco alle cose. Ok. Ho dato fuoco anche al pietrisco per sbaglio. Ma fa niente. Eeeh. Selce. L'elytra. Eeeh. La testa dell'ender dragon. Che figa. Diamante a volontà. Forse... Ah sì. Aveva spostato forse i... Magazzini qui sotto. Vediamo un po'. Altre l'elytra che rubiamo ovviamente. Perché dobbiamo fare un po' le merde. Io così nel dubbio glielo rideco. Ci sei... O no? Perché se ragazze non c'è davvero io do... Do il via le danze. Fanculo. Sarà FK cavoli suoi. Si troverà una bella sorpresina. Quando torno online. No no. Non mi sta rispondendo comunque. Oh. Marci. La TNT. Questa cosa non la dovevi lasciare qui. Andando a te. Ste bardature. Che palle. Qui c'è un libro incantato a caso. Non ha senso come cosa dia. Brucia tutto. Va bene. Visto che ha un bel po' di TNT. Io direi di iniziare ad usarla. Ragazzi. E li facciamo saltare tutto il magazzino. Tanto noi le cose che volevamo. Le abbiamo già prese. Vai. Boom. Ha ha. Questa volta si fa sul serio. Non sarò gentile un signore come l'ultima volta che non ho toccato quasi nulla. Guarda qua che cazzo di macello abbiamo fatto subito. Ci serve. Ci serve. Ci serve. Un po' di pietrisco per salire. Ok. E qui ragazzi. Mettiamo giù la TNT. E anche qua raga. Direi che un bel boom. Ci sta tutto. Anzi un bel boom. Tipo da rotto. Minchia. Come è esploso tutto bene. E qui abbiamo anche dato alla luce un bellissimo. Cos'è che c'è scritto? Iscrivetevi al canale di Marco. Questa cosa l'avevo già vista. Mi sa nel passato Grif. Ma che bel buco che abbiamo fatto. E qui è tutto legno. Quindi possiamo iniziare a dare fuoco. Non so se il fuoco spread in questo server. Uh. Un macchinario. Penso che fa le pozioni. Quindi qua abbiamo un alambicco. Se tipo. Fammi una pozione di forza. Va. Voglio una pozione di forza. Vediamo. Non va un cazzo. Beh. Come funziona? Aiuto. Mi farebbe comoda una pozione di forza. Sapete? Magari non si sa mai dopo. Però. Ok. Io ho già rotto tutto. Va bene. Diciamo che non fa niente. E diciamo che anche qui. Si metterà un po' di TNT. Bada boom. Distruggiamo tutto qua. Cosa c'è? Pozioni fatte? Mi stai dicendo che c'è qualche pozione fatta? Purtroppo no. Dobbiamo stare molto attenti a quello che stiamo combinando qui. Molto. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Vai. Dagli solo fuoco. Boom. Perfetto. Aspetta. Aspetta. Ma se. Se Marci è. Online. A FK. Dove minchia è innanzitutto. Sarebbe interessante fare come al solito. Spacchiamo il suo letto. Vabbè. Poco importa. Qui sopra. Qui sopra. Ha messo l'uovo dell'end. Quindi noi ce lo rubiamo subito. Giustamente. Tac. Molto bello. Dove è andato? Dove? Ehi. Uovo dell'end. Uo. Uovo. Del cazzutissimo end. Non c'è più. Vabbè. Facciamo saltare anche la testa. E sti cazzi. Probabilmente o si è teletrasportato. Oppure. Boh. È scomparso nel nulla. Comunque facciamo collare. Dalla scala un po' di lava. Che non fa mai male. Il fuoco qui non divampa. Però. Cioè. Non ci impedisce di metterlo. E basta prendere fuoco però. Dai. Dopo un po' hai rotto le palle. E ci sono un sacco di incantamenti. E anche due TNT. Direi che ci stanno bene. Beh. Ovviamente. Bisogna anche dare una certa completezza. Uno scudo raga. Uno scudo ci potrebbe fare comodo eh. Minchia. Tutta la mappa terra. Che fastidio. La mappa terra. Questa cosa là. È odiosissima. E noi gli diamo anche un fuoco a una TNT. Così esplode tutto. Questa è la sala degli iscritti. Quindi non la tocchiamo. Che gli iscritti non c'entrano nulla. Qua diamo un fuoco a questi quattro fornaci inutili. Cosa servono a sta roba? E qua. Cosa c'è qui? Cose. Oggetti strani. A caso. Qua dietro ci dovrebbe anche essere un mio cartello. Sapete? Eren è stato qui. Mai debole. Minchia. Questa cosa l'ha messa tipo un botto di tempo fa. Ancora qua. Vai. Diamo fuoco a tutto. Ok. Raga. Da dove è caduta sta roba? Ma c'era un'altra chest qui. Con un altro diamante. Ma che ignoranza tutto sto diamante. Non va bene. Non va bene. Abbiamo 64 TNT. Io direi che queste 64 TNT le possiamo piazzare un po' là e un po' qui. Così per fare anche la mia solita rima stupida. Dai fuoco qui. Dovrebbe farsi una bella esplosione a catena. Vediamo. Aia. 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 No. Non è esploso un cazzo del resto. Ma che fastidio. Che fastidio. Vabbè. Cercheremo di completare poi. Oppure diamo fuoco alle TNT. Ma a mano che saliamo. Facciamo una serie di buchi un po' qui e là. Dai. E beh. Qua mi spiace fare il criticone. Ma sta torre non si può vedere. Cioè. Guardatevi la mia vanilla. Se volete una vera torre. Cos'è sta roba? Marci. La deve rifare sta roba. Ragazzi. Li faccio un favore a toglierla. Li faccio esplodere un botto di TNT in questo punto. Perché sta roba la deve rifare. Non si può vedere sta torre. Micchia. 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 Aia. 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 Porca Eva. Un po' esagerato mi sa. Adesso se noi apriamo un varco qua. Ok. Tra l'altro lì ci sono le statue del tirless inculato. Dove c'è la mia base. Quella roba lì non si tocca. Non la posso griffare. Perché è una costruzione mia nel server di Marci. Lo so che è strano da dire. Ma ho costruito anch'io qualcosina. Cosa è stupide. Ma ho dato il mio contributo a modo mio. Dei fuoco tutto. Scappa prima che muori. Aia. 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 Mi sono fatto malissimo. Scappa. 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 Mamma mia. Guarda qui che buco. Raga. Stavolta. Non ci sono andato leggero. Che già l'altra volta. Il re dei creeper non era contento. Voi mi avete detto. Ma sì. Sei stato troppo gentile. Questa volta non lo potete dire. Ragazzi. Ho eliminato la casa. In pochi minuti praticamente. Guardate. Non c'è più. C'è. C'è ancora la casa. Per carità. Però è. È devastata. Anzi. Guardate. Facciamo una. Una bella scia di distruzione anche qui. Che non ci costa nulla. O si è attiva. Perché si è attivata. Ah. La pressure plate. Si è attivata da sola. Merda. 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 Sapete cosa sarebbe divertentissimo. Se lui fosse. FK nel nether. Perché io qua non lo vedo. Lì distruggiamo il portale. Lui non può tornare neanche a casa volendo. Boom. Perfetto. Ragazzi. Per ora. Abbiamo fatto un bel lavoro. Da qua fuori non si vede. Perché il grosso è nella montagna. Però abbiamo fatto davvero un grandissimo lavoro. Ed è arrivato il momento di sfasciare un pochino di farm. Ta 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 ta. Distruggiamo tutto. Mamma mia ragazzi. Che primizia. Griffare le canne di bambù. È la cosa che preferisco. La cosa più divertente. Cazzarola. Poi gli mettiamo una secchiata di lava tattica qua sopra. Giusto per fare la fontanella. E poi. E poi. Cos'è quella roba la nuova? Sto pupazzo di neve sembra avere il pizzetto. Tipo. Marce ha scritto Eren. Pensavo che fosse FK tipo si fosse dimenticato. Oh. Che c'è? Che 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 cosa? Non dirmi che. Che succede? Vladimir. Ma che è sto cosa raga? Ok. Lo uccidiamo con l'acqua. Senza lasciare prove. Minchia raga. Che kill. Hai fatto qualcosa? Va che io sono spawnato in Culandia. Non so che cazzo dirgli. Cosa? Perché? Cosa? Perché? Ero passato a salutarti. Ragazzi. Se dobbiamo evadere immediatamente da qua. Evadiamo. Evadiamo. È spawnato in Culandia? Perché sei dentro? Ehm. Perché sono dentro raga? Come cazzo le va giustifico sta cosa? Vole. Volevo salutarti. Ti sto. La. C'è la lava. No 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 no. Ti sto lasciando gli easter egg. Sono lontano dalla base. Così ragazzi. Tanto ce ne andiamo. Così non. Non sospetterà di. No Simo. Come no Simo? Figa. Sono spawnato in Culandia. Dov'è che stava? Stava nel land. Manca mezza casa cazzo. Oddio. Mi sa che raga era tipo nel land. Qualcosa così. O nel nether. Beh non è morto. Quindi non è respawnato. Era per forza tipo fk nel land. E si vede che respawnando io gli ho rotto il letto. Per una volta è servito. Gli ho rotto il letto. Lui è rientrato ed è spawnato da qualche parte. Marci non ho fatto un cazzo. Ti sto piazzando gli easter egg come sempre. Non cominciamo a dare la colpa di robe. Non lo so raga. Non so che cazzo dirgli onestamente. Scusa. Una cosa. Vieni a casa. Va che. Va che sono lontanissimo. Raga dobbiamo fargli chiedere che non ci entriamo. C'è la banca qui. Passiamo dalla banca a fare qualche disastro. No ti oppo. Ma che cazzo no. Mi ha oppato raga. Mi ha oppato. Arrivo un attimo. Che sto finendo gli easter egg. Ragazzi sapete io ogni tanto entro nella vanilla di Marci. Soprattutto quando c'è lui. Di solito non entro da solo. Intanto andiamo in game mode 1. Dato che mi ha oppato raga sti cazzi. Dai sti cazzi si. Io ogni tanto entro dicevo. E tipo gli lascio gli easter egg in giro. Perché tipo è figo. E poi lui li trova. Tipo le teste dei morti in giro. Ste cagate qua. Solo che. Non so quanto sia credibile. Dobbiamo fargli credere che sia entrato qualcuno. Aspetta aspetta. Intanto che. Che lui mi aspetta a casa. Io faccio qua un po' di disastri. Intanto mi ha oppato. Quindi possiamo fare il cazzo che vogliamo. Ok. Sto arrivando. Ok ora possiamo anche tipparci ragazzi. TP. TP. Eren Blaze. Ma da marci. Raga ho l'acciarino in mano. Aspettate. Non mi faccio vedere. Dobbiamo fargli credere che non ci entriamo. Che cazzo. Raga dobbiamo scappare dal portale. Qui ho disattivato il nether. Porco giuda. Guardate che ma ce l'ho fatto. Riattiva il portale. Ok zitti zitti. Ma è tutto rotto. E sei stato tu. Ma figa ma. Ti ho detto che. Che stavo mettendo gli easter egg. Boh. Che cazzo ne so. Guarda i log. Prima che. In qualche live. Hai liccato l'ip. Va che. Puoi venire un attimo su TS. Mi chiamo su TS. Sì. Potrei arrivare su TS. Si è messo FK. Si è messo FK. Aspetta aspetta. Oddio. 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 No guarda sta scappando. Sta scappando. Micchia raga l'abbiamo fatto il casino. Il casino. Il casino. Io sono. Sono in creativa. Prima che si oppi. Prima che si oppi. Guarda sta scappando. Sta scappando. Aspetta aspetta. 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 Marci vieni qui. Devi venire qui. Non scappare. Non scappare. Non scappare. Eh sono in creativa. Pirla. Non c'è la Keep Inventor. Ok no raga l'abbiamo fatta. Non c'è la Keep Inventor. Via via via. Scappa in creativa. Scappa in creativa. Scappa in creativa. Scappa in creativa. Minchia. Oh minchia raga. Subito subito subito. Via 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 via. Vola 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 vola. Vola vola vola. La peren. Dai dobbiamo. Dobbiamo andare da Herobrine. Dobbiamo andare da Herobrine. Avevo 38 livelli. Vai vai vai. Fai funzionare sto robo. Fallo funzionare. Oh oh. Sono tornato. Sono tornato. Oddio che trip. Ok ragazzi. A quanto pare ce l'abbiamo fatta. Abbiamo griffato per bene questa volta. Il re dei creeper sarà sicuramente soddisfatto. Spero che anche a voi vi sia piaciuta questa griffata. Ovviamente si fa sempre per scherzare in questi casi. Il server verrà poi ripristinato con il backup subito prima la griffata. Non vi preoccupate. Ma ragazzi spero che vi siate divertiti come mi sono divertito anch'io. Io vi saluto. Un saluto da Eren. Blaze. Ciao a tutti. L'abbiamo combinata grossa questa volta. no